Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui andremo a far vedere tutti gli acquisti a tema nerd del mio ultimo giro da Primark C'è una piccola inquadratura, comincio con i cuscini perché sono voluminosi e mi occupano parecchio spazio per poi muovermi più agevolmente Allora, questo c'era già l'altra volta che sono andato ed è un cuscino di Harry Potter ovviamente Qua c'è lo stemma di Hogwarts con le quattro case Il classico, il titolo, cioè scusate, la frase tipica di Hogwarts che è questa qua Il motto, ecco, mi veniva il nome Che dovrebbe essere non disturbare il drago che dorme, se non ricordo male E qua si capisce che è dorato, vabbè Non si capisce? No, adesso qua dietro sì E qua di nuovo c'è di nuovo lo stesso stemma, più piccolo, con Mario Questo tra tutti i cuscini di Harry Potter è l'unico che piaceva a me Perché lei non è fan di Harry Potter Infatti tu sei l'unico al mondo che non ha letto i libri di Harry Potter se non sbaglio C'ho provato C'ho provato ma ha fallito Poi Questo l'ho voluto io Aspetta, non ho detto il prezzo di questa meraviglia qui è 8 euro Beh, comunque è buono per dei cuscini, nel senso che, no, non l'ho messo a fuoco Perché alla fine 8 euro sia federa che l'imbottitura Esatto, esatto Cioè già solo l'imbottitura tipo all'Ikea già costa 5-6 euro solo l'imbottitura Questo l'ho voluto io Questo qua l'avvolutore, l'avevo visto, non mi aveva colpito, invece l'avvolutore Sul divano grigio è perfetto Esatto, perché noi avevamo un nuovo divano grigio Aspetta, è sempre dei 90 anni, infatti qua c'è scritto Non so se si vede nel video Mickey's 19th anniversary Esatto Anche l'etichetta, sì sì, anche l'etichetta, limited edition Ah, anche limited edition By Primark 9 euro Questo 9 perché è una limited edition E facciamo vedere È di vellutino Dietro non c'è nulla, è per la cronaca Però è sempre vellutino Sì, sì E inoltre può fare questa Piano, fallo sull'orecchio Perché lì è un po' esistente Cioè in realtà è sempre grigio anche dall'altra parte Però da una parte è grigio Sì, non farlo tutto Beh, facciamo vedere Cioè da una parte è grigio specchiato E dall'altra resta grigio opaco sostanzialmente È questo qua Bello Questi sono i cuscini Ne abbiamo presi due Poi Una per tipo A tema Harry Potter Abbiamo preso meno roba stavolta Perché comunque c'è già tante volte che c'era Harry Potter Ho preso solamente questo portachiavi Con lo stemma di Grifondoro Quattro euro Poi Sempre di Harry Potter ho preso Siccome anche mio nonno gli piacciono tanto i treni Il treno, questo qua Di Harry Potter Si vede? No In realtà Non si vede un po' che niente Aspetta un secondo Ok Ok Allora in realtà questo qua è un salvadanaio E qua infatti c'è l'entrata per le monete C'erano tre tipi C'erano il trenino Più la macchina La macchina che loro guidano E finiscono sul platano picchiatore E l'ultimo tipo Non mi ricordo più quale fosse Erano tre tipi Questa si percepisce Quanto costava? E questo costava nove euro Ecco qua Poi Questa era un'altra Come si chiamano? Questa è già che non mi ricordo più Le bombe da bagno Le bombe da bagno Scusate Che costava due euro Perché era sconto Ma doveva essere un rimasuglio Perché era nella zona super scontata Di mini Di mini Ok Poi vabbè di mini Ci sono la confezione di mini in realtà Sì Poi Queste sono mutande di Star Wars In clean Quanti paia? Dovebbero essere due Così si può giocare Ah ma si può prendere Ah è un libro? È un libro Sembra una cover per il cellulare Ah fa vedere di là Ci sono i modelli Ah dietro si vedono Guarda dietro si vedono Si mette a fuoco Si vedono Si vedono? Sì Ok E costavano nove euro Di solito sono tre nove euro Questa volta me l'hanno fatto pagare Per più Allora Poi Ah un'altra bomba da bagno Per questo è per i novant'anni Di Topolino Che anche se in realtà Che poi in realtà I novant'anni sono anche di mini Perché sono nati insieme E i glitter E i poteri però No era a metà Mi sembra Se mi aiuta Ah L'ho visto Cioè metà d'oro E metà bianca Poi non so cosa farà nel bagno Cosa c'è scritto? Niente 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 Effervescente da bagno Esatto 4 euro costava questa qua Poi Torniamo a tema mutande Con i Looney Toons Visto che dei Looney Toons Di nuovo due No Di nuovo anche qua Ah queste si tolgono subito qui Così potete vederle meglio Apri Qua c'è Tutti i costi Questa è bella Questa è molto bella Questa è molto bella Vuoi vedere l'altra? L'altra Invece c'è Soltanto qui Bugs Bunny Bugs Bunny Si vede? Si si Tra l'altro Faccio notare Qua c'è proprio il simbolo Classico Dei Looney Toons Anche questa costava 9 euro Che potete vedere qua 9 euro Poi Ne stiamo sempre in tema Diciamo vestiti Una sola t-shirt Questa volta Questa qua Della Marvel Con tutti i vari Avengers Ed è velluto Non so se si potrà vedere In video però Aspetta Così forse si Si vede? Si Lo sfondo rosso È di vellutino Questa è bella È costata 10 euro Le hanno aumentate Forse le mani Perché una volta Le hanno 9 No dipende Perché questo Ha quel tessuto Un po' Non so come dire Tipo Non tipo seta Però Ok Vabbè Poi direi Che faccio vedere L'ultima cosa Non Disney Perché è proprio Solo Disney Ho preso questo Perché praticamente C'erano tantissime Di decorazioni Per l'albero di Natale Che sono fatte qua Di latta Con dentro Dovrebbero esserci Dei cioccolatini Ho preso giusto una Con Snoopy Un tema natalizia Giusto per prendere una Costavano Mi sembra 2 euro Se le trovo Dietro saranno? Non trovo il prezzo Un po' Maggio 2 euro comunque costava Dai fidatevi Non c'è Non c'è Comunque erano 2 euro Perché erano poco 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 Poi Andiamo avanti Con tutte le cose A tema Disney Sempre rimanendo Sul tema Albero di Natale Perché secondo me Queste le abbiamo già comprate Le abbiamo già comprate Anche secondo me Infatti ne ho preso Altre due paia Altre due paia In realtà Altre due confezioni Queste sono Addobbi Natalizi Ovviamente A tema Disney Potete vedere il prezzo Di 4 euro L'abbiamo preso Perché al Disney Store Costano tipo Una 4 Una confezione Da 4,21 euro Che poi più o meno Sono simile Di questa grandezza Invece una singola Grande così 21 da sola Quindi abbiamo preso così Ci saranno un po' più Scrause Però Con 12 euro Alla fine Sai Non è che si usa Una chissata Con 12 euro Ne porti a casa Ben 12 Comunque No Scusa Con 8 euro Ne porti a casa 12 Scusate Poi Andiamo avanti Questo L'ha voluto lei Quindi descrivi tu Che cos'è Eh Aspetta che fa luce Eh Niente Di Winnie Pooh È un piattino Suata tasche No? Come si chiama? Penso anche io Di chiamarlo così Trinket dish Ovviamente di Winnie Pooh Sì l'ho detto E questo qui È di 4 euro e 50 Poi rimanendo in tema Winnie Pooh Questo l'avevo visto L'altra volta Non l'avevo preso Mi ero cattito Per fortuna C'è ancora Che cos'è? È una cornice Con dentro la mappa Del bosco dei cento acri Tra l'altro C'è stato anche il film di recente Quindi Ho voluto prenderlo Non so se si vede bene il disegno Bello Ok Molto carino E il prezzo Eccolo qua 6 euro Questa in realtà era una cosa vecchia Ce l'avevo già visto Poi Ah sempre vecchia c'è quella Che non c'è l'altra volta Questa qui? No Ah ok Poi noi avevamo già preso la tazza Di Topolino L'altra volta Pentendoci di non aver preso quella di Minnie Di non aver preso quella di Minnie Per fortuna La volta successiva non c'era Non c'era Però l'hanno rimessa casualmente oggi Che fortuna Eccola qua E qua c'è la tazza Che fa la coppia con quella di Topolino E dovevo prenderla E dentro c'è scritto Detto c'è anche scritto Non so se riesce Minnie Mouse Aspetta Sì con i cuoricini su lei Ok E questo costava 7 euro Poi sempre di tazza Nel frattempo ne hanno messa una nuova Di Topolino E io potevo non prenderla Eccola qui Tra l'altro mi sa che è uguale Cioè la stessa edizione del cuscino Penso di sì anch'io Deve essere legata lì Comunque anche qua Limited edition Tra l'altro sto notando ora Questo è Topolino Tutto bello argentato E anche lui comunque 7 euro Stesso prezzo Me lo faccio ancora vedere Che è molto carino E andiamo avanti Poi Cosa passiamo? Facciamo tutte le cose Che riguardano ancora un po' I 90 anni Topolino Queste in realtà sono Che non so se chiamarle top Cose così Che riguardano i 90 anni Tipo di Infatti potete vedere Qua il numero 90 Il 28 Perché è nato nel 1928 Questo è lo Stimbo Twindy Qua altri simboli Sai i pantaloni La sua faccia È 90 anni Qua Topolino e Mini Stilizzati Ma sono quelli da stirare? Da cucire? Puoi cuciirli Poi Ah no Allora Le spiglie la baglia Sì puoi attaccarli come vuoi tu Comunque Questi 4 euro Visto che erano un po' Tipici Li lascerò comunque Così non li attaccherò mai Adesso avanti Poi portachiavi con la manona Di Topolino Preso così tanto per prenderlo Questo costava 4 euro Non so ancora dove lo metterò Poi Non so Inquadra il tuo orologio Che così facciamo vedere L'altro Io l'avevo preso per me Poi l'ho data lei No perché lo volevo anch'io Sì L'avevamo preso in due No non l'hai preso in due Tu lo volevi Non l'hai preso Poi l'ho preso io alla fine Così adesso lo usi Sempre questo E io quindi ho preso anche Questa nuova edizione A parte che sono da donna Quindi hai poco da dire Ma che c'entra L'ho sempre io che l'ho preso Comunque anche questo Deve essere tutta la stessa linea Perché anche qua Limited Edition E quindi anche questo Sarà mio A breve Esatto 10 euro 10 euro Mio Poi Passiamo A delle cose A tema Disney Intanto per cambiare Sempre Disney Però Alice nel paese delle meraviglie Ecco qua Il gatto Di Alice nel paese delle meraviglie Sempre svuota tasche Porta anelli Porta gioie Questo io l'ho visto Me lo sono voluto prendere Carino Stregato Molto carino L'ho stregato Bravo Non mi veniva il nome Questo costava 6 euro Questo non c'era l'altra volta Dove essere abbastanza nuovo Oppure Non so dove l'hanno pescato L'ho stregato Molto carino Poi sempre dello stregato Però questo qui Doveva essere già esaurito Ce n'era uno In un posto Mentre facevo la coda L'ho visto L'ho preso Questa bull Bella questa Ma l'ho vista io Non l'hai visto Perché mentre L'ho in coda Puoi tirarla fuori O uscirla Aspettate Facciamo vedere In dire Anche l'unboxing In diretta Questo qui Mentre facevo la coda L'ho trovato Abbandonato lì Forse poi da qualcuno Che non l'ha più voluto prendere Evidentemente O da uno che l'hava lasciato lì Per prenderlo dopo E non l'ha più trovata Eccolo qua Bella questa In tutto il negozio Non ce ne sono più Quindi Bella questa Questa è veramente bella Eh infatti Molto molto bella E lì c'è scritto Lo legge tu al contrario Io da qua non riesco a capire Cosa c'è scritto Non capisco se è where O we are No we are all made here Lo capiremo meglio a caso Lo leggerete voi Ah no siamo tutti matti qua Eh we are vero Si All Mad Mad Made Mad Siamo tutti matti qua Letteralmente Anni anni di inglese Vedi che sono serviti Quanto costava? Adesso te lo faccio vedere Aspetta che lo rimetto qua Nella sua confezione Allora questo qui costava 9 euro Poi sempre Dall'altro punto L'ho appena anche qua Sempre simile Anche questa qua Che tra l'altro Questa è indicatissima Per noi che abbiamo Presente 30 anni Esatto Io non ne ho 30 anni Comunque ancora Eh Però siccome cambiamo casa Ovviamente l'abbiamo preso Perché cambiamo casa Perché in questa qua C'è scritto Il mio primo Natale My first Christmas Però è anche molto più carina Ma sarà il nostro primo Natale In casa nuova In casa nuova E questa sarà 9 euro Immagino Sì Volete vedere 9 euro anche qua Ok Poi Torniamo A tema Palle di Natale Decorazioni dell'albero di Natale Noi ne avevamo già preso Alcune di questa serie Sostanzialmente L'abbiamo completata Credo perché Avevamo già tipo Topolino e Minnie Mi sembra che siano tutte Perché finalmente Nell'ultimo giro del pomeriggio Le abbiamo trovate Perché questi continuavano a mancare Allora Questi Chico e sua mamma L'antico vaso Proveniente dalla Bella e la Bestia Costano tutti 6 euro mi sembra Così adesso vi faccio vedere No dietro c'è scritto 5 euro No questa è stabile L'ho messo Un altro vecchio prezzo 6 euro È vero Ecco L'abbiamo appena arrivati Comunque Chico e la mamma Dalla Bella e la Bestia Tutti 6 euro Non è quelli che vedete Mrs. Brick Si chiama Qua c'è Ah non lo sapevo Tipete Bambi Ovviamente Da Bambi Winnie the Pooh E io Da Winnie the Pooh Ovviamente La Sirenetta E il suo pesce Che non mi viene Come si chiama? Eh lui non mi viene Adesso il nome Me l'ho dimenticato Flanders Flanders bravo E Flanders Ovviamente la Sirenetta E infine Da La Bella e la Bestia Lumiere E l'altro Che non si ricorda mai Nessuno il nome E non me lo ricordo Anch'io il nome E quindi Questi Finiscono qua Vi faccio vedere Tutti i set E più abbiamo Cenerentola Topolino Esatto Cenerentola E altri Questi sono i set E ora passiamo ai pezzi Proprio quelli forti Perché anche per questi Di prezzo Sono quelli più elevati Cominciamo direi con Mini Ah ma Scusa ma manca una cosa Allora Mini Eccola qua Questa No perché qua non è più Primark Ah questo è Disney Store Quindi i due pezzi Che vedete adesso Sono del Disney Store Che sono Mini Questo qua costava 30 euro Però siccome noi Avevamo già superato I 20 euro tipo di spesa Questo l'abbiamo pagato In realtà 10 euro Edizione limitata Disney Store 2018 Ok Col pellicciotto Che bella Questo ovviamente è di Natale Questo è tema Natale Vedete vedere qui Ah forse è prezzata 30 Prezzata 30 Ma noi l'abbiamo pagata 10,90 10 euro e 90 Perché vi faccio vedere L'altro pezzo che abbiamo comprato Ma è piuttosto direi ovvio Ovvero Topolino Versione Vestito da Santa Casa E il topolino di questa serie Qua ce l'avevamo già Sì il topolino di quella serie lì Ce l'abbiamo pagata Non perché ce lo siamo dimenticati Questo qui L'ho visto per la prima volta Dal Disney Store Questo invece costava 23 euro Adesso lo faccio vedere E qua E qua E qua Questi due pupazzi Provenivano dal Disney Store Adesso andiamo a vedere L'ultimo pezzo Che io ho visto Sia al Disney Store Che da Primark Ho preso quello di Primark Perché la versione del Disney Store Era ovviamente bellissima Perfetta Ma costava 70 euro 69 Mi serve da essere precisi Quella di 12 euro Costava 12 euro Quindi potete capire anche voi Il motivo Del perché Ho comprato questo orologio qui Che ovviamente È sempre il nostro amico di Lumianchi Io non ricordo Ma il nome Questo ve lo ho Ah c'è il nome Ah ma non Eh ma c'è il nome in inglese Sì E un orologio Allora Eccolo qua Questo costava 12 euro Ovviamente quello del Disney Store Pesava 10 volte tanto Quello del Disney Store Pesava molto di più E ovviamente costava anche molto di più Aveva la particola Che era più grande E poi aveva il vero pendolo Perché questo in realtà È solo dipinto Non so perché no E l'orologio Comunque è un vero È un vero orologio Questo qua Adesso bisogna mettere le batterie Però è molto molto carino anche lui Oh tribuno Spero che questo video vi sia piaciuto Che vi iscriviate al canale E ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao